La microbiologa e virologa Sandra Mazzoli è stata ospite degli incontri capitali con la sua Alexio Magistralis su microbiomi e microbiota nell'evoluzione umana, spunti e approfondimenti all'insegna della cultura scientifica per l'anno di Pesaro 2024, nati da una carriera dedicata allo studio della materia. Nasce in maniera abbastanza provocatoria perché nasce da una discussione tra amici in cui qualcuno dice che la scienza non è cultura, non è cultura tradizionale, dopodiché praticamente abbiamo deciso che invece la scienza doveva diventare cultura e quindi da questo parte l'input per questa Alexio che tra l'altro parla di un argomento a cui sono stata interessata per moltissimi anni perché mi sono occupata per molto tempo di biofilm batterici e di infezioni virali e i microbiota appunto sono batteri, virus, archei, protozoi e quindi da qui siamo partiti. Il trasferimento di geni da specie umane ancestrali e di micro-organismi sulle specie umane ancestrali è stato poi un input per reagire meglio anche a covid e alla pandemia oppure è stato un fattore di rischio perché chi aveva certi cromosomi ha reagito peggio e quindi l'infezione si è cronicizzata e ha dato poi anche dei problemi come long covid eccetera. Quindi il microbioma intestinale è fondamentale perché praticamente si fonde al genoma umano secondo il concetto dei biologi evoluzionisti americani in holobionte, cioè in un unico organismo che diventa fondamentale. Sulla cultura scientifica Sandra Mazzoli dedica anche una riflessione, tanto sull'importanza di quest'ultima e della sua comunicazione quanto sui giovani. Il problema è che assolutamente i giovani sono forse poco sensibilizzati al problema scientifico. C'è stata poi soprattutto con la pandemia una grossa recrudescenza di no vax, di no covid, no microbi, no virus, no tutto. Ritengo che invece sarebbe importante riuscire a capire quanto questi micro-organismi siano impattanti nella nostra vita sia perché ci colonizzano e sono dentro di noi ma soprattutto anche quelli che sono patogeni appunto devono essere conosciuti e grazie alla conoscenza e alle tecnologie che abbiamo oggi a disposizione e di cui appunto si parla anche nella natura della cultura qui a Pesaro riusciamo poi a combatterli nella maniera giusta. Capitale della cultura 2024 deve nascere l'input che è l'informazione fondamentale per la diffusione di una giusta cultura scientifica tra i giovani ma anche tra gli adulti, tra tutti.